La customer centricity nel settore assicurativo è questo il tema che affronteremo in questo focus speciale di approfondimento. Senza dubbio che la customer centricity non è un concetto che è stato inventato oggi, è un concetto diciamo tradizionale che però nel corso del tempo ha subito un'evoluzione portando naturalmente a una trasformazione di tutti i processi aziendali, la comunicazione, il marketing, la vendita e addirittura anche la produzione. Ne parleremo con la nostra ospite di oggi ovvero Elisa Scarani, Head of Customer Office Forward View Life Insurance Lux. Benvenuta e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie. Ecco, dottoressa Scarani, partiamo appunto dal concetto di customer centricity che è diventato ormai una realtà nel settore assicurativo, ma che cosa significa esattamente questo termine? Sì, è un concetto che è nato negli anni 90 e che significa imparare ad ascoltare le esigenze dei clienti per soddisfarle. È un processo in continua evoluzione che dipende da fattori storici, politici, sociali ed economici, tutti fattori che vanno a impattare gli bisogni, le necessità dei clienti da ogni punto di vista, anche quello assicurativo e finanziario. Ecco, quindi appunto il cliente al centro, ma è un cliente, quello del giorno d'oggi, che ha subito anche esso delle trasformazioni, una su tutte naturalmente la trasformazione del digitale. E quindi le chiedo, dottoressa Scarani, come la customer centricity è stata adattata proprio da Forward View alle esigenze di un cliente che è sempre più digitale, se non addirittura fully digital, cioè completamente digitale? Sì, è vero. La nostra compagnia ha investito importanti risorse per andare a ricostruire il processo di vendita dei prodotti completamente digitale. E mi sto riferendo soprattutto alla valutazione del cliente, alla sottoscrizione del contratto, così come all'assunzione di quest'ultimo. Il riscontro che abbiamo avuto dai clienti è stato molto positivo, sia per la snellezza e la semplicità del processo di sottoscrizione del contratto, ma anche per la semplicità di mettersi in contatto con la compagnia. Faccio riferimento specialmente ai social network che sono diventati, ormai ad oggi sono, il primo punto di contatto tra il cliente e la compagnia. Sì, certamente. Ecco, lo sviluppo dei social è forse il fenomeno che in assoluto più caratterizza la nostra epoca. Ormai addirittura possiamo quasi distinguere tra social tradizionali o comunque che hanno già fatto il loro tempo i social di ultima generazione, come ad esempio TikTok, che ormai prolifera sempre di più, non solo tra l'altro nel mondo dei giovani, ma viene utilizzato anche molto spesso dalle aziende. Ecco, abbiamo parlato appunto di processi interni, abbiamo parlato di clienti, dobbiamo parlare di prodotti. Come avete sviluppato la customer centricity all'interno dei vostri prodotti, nello specifico? Sì, certo, molto importante, anzi è un passo che una compagnia assicurativa può e deve compiere per raggiungere l'espressione massima di customer centricity. In ForwardU abbiamo compiuto questo passo con il lancio di una nuova serie di prodotti assicurativi di investimento, tra cui ForwardQuant, è un prodotto che investe completamente su fondi Unitlink e che fa della flessibilità il suo punto di forza. Ecco, lei ha citato un termine chiave, flessibilità, ormai lo utilizziamo naturalmente in vari ambiti per diversi aspetti, è diventato appunto fondamentale in questo momento storico in cui si ha sempre un occhio, diciamo, specifico verso le esigenze proprie di ciascun cliente. Ma voi ecco, esattamente con il termine flessibilità che cosa intendete? La flessibilità la intendiamo con la possibilità per il cliente di uscire anticipatamente dall'investimento tramite un riscatto parziale, un riscatto totale, senza avere grandi perdite di denaro. È un tema molto sentito dalle persone perché c'è l'esigenza negli anni di dover o poter far fronte a situazioni impreviste di ogni tipo. E certo, situazioni impreviste che soprattutto in questo periodo storico tra l'altro si moltiplicano perché viviamo in un momento proprio caratterizzato da una estrema variabilità, da una estrema volatilità anche del sistema economico e non solo. Quindi diciamo che la flessibilità diventa un po' la parola d'ordine. Ecco, ultima domanda. Le chiedo di sintetizzare in tre punti chiave che cosa vuol dire appunto la Customer Centricity per voi, soprattutto dal punto di vista del prodotto. Sì, certo. In primo luogo il raggiungimento del break-even e quindi il punto di pareggio tra i premi versati e il valore di riscatto nel breve periodo. Questo vuol dire anche dei valori di riscatto più alti sempre nel breve periodo. Il secondo punto è la flessibilità, quindi dare al cliente più opzioni per poter gestire il proprio contratto. E infine l'ascolto del cliente, anche tramite degli strumenti, quali i focus group. Ecco, sì, insomma, l'ascolto del cliente, la personalizzazione, l'ascolto delle sue esigenze particolari diventano insomma fondamentali, proprio diventano il centro anche di come operare da qui in avanti. Io ringrazio molto Elisa Scarani, Head of Customer Office Forward You Life Insurance Luxe, per essere stata qui con noi e per averci portato insomma nel mondo della customer centricity del settore assicurativo. Grazie e alla prossima. Grazie mille, alla prossima. Bene, allora si chiude quindi ecco questo focus dedicato alla customer centricity nel settore assicurativo. Naturalmente io vi do l'appuntamento ai prossimi approfondimenti. Grazie mille, alla prossima.